C'è poco da dire, c'è pochissimo da dire, c'è soltanto da ammirare una squadra che in questo momento è semplicemente inarrestabile. In questo momento siamo la squadra più forte d'Italia, spero che questo momento duri il più possibile, spero che questo momento possa durare anche l'anno prossimo, anche se ci sarà l'ennesima rivoluzione, Pioli, Santo subito, indipendentemente da come finirà. Santo. Oggi davvero il Bologna è stato annichilito, ma la sensazione è quella che c'è, è quella giusta, che in questo momento qualsiasi avversario ci si ponga davanti verrebbe disintegrato, verrebbe distrutto, infatti il Bologna è soltanto l'ennesima vittima. Mi fa strano parlare in questi termini del Milan, perché sono dieci anni che non succedeva, ma è così, in questo momento storico siamo semplicemente inarrestabili. Niente, è proprio bello, proprio bello in questo momento, in questo specifico momento, ti farei Milan e le parole sono superflue, possiamo soltanto guardare la partita e probabilmente domani me la riguarderò. Ciao.